Nuova parte, ciao ragazzi Ho ricevuto notizie sul generale Sembra stia testando una nuova serie di armature potenziate naziste Fate attenzione, ok? Ah si, nessun problema, nessun problema Io sono esperto nell'ammazzare i nazisti Ah, scusate se nell'ultima parte non ho commentato Solo che microfono mi fa sempre brutti scherzi Cioè, troviamo questo generale Winkler e ammazziamolo Ehi, ehi, nazisti, qua dietro Ciao Ma che è quello lì? Ja, general Oh Sempitante merda Con piacere Bene, boss generale Winkler Fatti sotto, merdaccia Ah Bello, bello, bello Dopo due anni si ritorna ad ammazzare i nazisti Dove sei? Tanto ti vedo, ti vedo Mamma mia però quanto fa male Oh si, continuo a crederci, continuo a crederci Aiuto 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 Devo dire una cosa Rispetto ai suoi predecessori Vabbè Qui Wolfenstein ha voluto proprio fare un bel po' di passi avanti I nemici con la vita Ecco, forse una cosa che mi rompe sono Dover livellare Perché da quel che ho capito Nella prima parte Qui Uccidendo i nemici Si sale di livello E vedete che il generale c'ha il teschio Cosa significa? Che lui ha un livello molto alto rispetto al mio Quindi lo Se lo sconfiggiamo Lo sconfiggiamo per miracolo Forse questa cosa qua un po' Non so Non è che la adoro Semplicemente per il fatto che quando mi metti i livelli Limiti un po' il personaggio Limiti l'esplorazione Per esempio Assassin's Creed Gli ultimi Assassin's Creed Una cosa che mi fa veramente incazzare Oltre che i giochi Vabbè Non mi divertono più come una volta Ma è la questione di salire di livello Cioè non posso accedere a quella zona Finché non sono salito di livello Ed è una cosa che generalmente Nei giochi Insomma non è che mi faccia impazzire eh Anche in The Witcher 3 Per carità eh Per carità The Witcher 3 Lo adoro eh Lo adoro Mi rompe un pochino Il dover salire di livello Per poter avere un'armatura Per poter usare una spada Eccetera eccetera E quindi sono costretto a fare Missioni secondarie Che per carità Alcune sono belle Però altre mi fanno cascare Mi fanno cascare i coglioni Però vabbè Siamo appena all'inizio Siamo appena all'inizio di questo gioco Potrei sbagliarmi O spero di sbagliarmi Perché Wolfenstein come saga L'adoro L'adoro Però questo non muore mai E cazzo muori Cazzo non ho più munizioni Non ho più munizioni Dove cazzo sei E basta Cacchio Aiuto Ma anche tu sei ferita Eh ciao Ho perso Dai Una cura medica Non c'è Un kit medico No Adesso perdo Ah non muoio Ah Eh ma che cazzo Vedesta Che cazzo Muori Questo mi ricorda Il finale degli incredibili Beh mio caro General Winkler Che devo dirti Auf Wiedersehen Salutami il Führer Oh mannaggia Mannaggia La madonna Oh mannaggia Oh mannaggia Grazie. Resto a dormire. Bello. Bambine, ci date un momento. Bambine. Ehi, cos'è quello, Abby? È una cimice. Sembra opera di Arthur e Kenneth. L'hai costruita tu. Già, chi sono Arthur e Kenneth? Vuoi dirmi che non hai letto le avventure segrete di Arthur Pennington e Kenneth Van Oldshauser? Hai vissuto in una grotta, per caso? Ecco, tieni. Non ho tempo per leggere i romanzi. Allora, Arthur e Kenneth sono super spie che vanno assolutamente... No, zitta, chiudi il becco. Ascolta. Ragazzi, non mi preoccupate. Anche se non diceva nulla. È già stato via, ma mai così a lungo. Nessuna telefonata. Nessuna lettera. Ho cercato ovunque. Ho cercato ovunque. È scomparso. Beh, i miei agenti dicono che ha lasciato il paese quattro settimane fa con un'identità fittizia. Poi le tracce spariscono. Ania, ultimamente hai notato nulla di strano in lui? No. Non saprei. Era depresso, o almeno credo. A volte non parlava per un giorno intero. Come faceva all'istituto. Sai com'è fatto? È sempre malinconico. Già. Io non posso seguirlo, Grace. Devo restare qui e occuparmi delle mie ragazze. Sei a capo dell'FBI, non c'è niente che puoi fare. Ascolta. Se uno dei miei agenti, credimi, avesse potuto fare qualcosa, gli avrei dato carta bianca. vuoi sapere la verità? Lui non vuole essere trovato, Ania. Se BJ Blazkowicz non vuole farsi trovare, non c'è niente e nessuno sulla faccia della terra che possa riuscire a stanarlo. Sì. Già. Uno schifo. Al diavolo. Non lo cercheranno. Nessuno fa mai un bel niente. Dio, che sfigate. Noi dobbiamo fare qualcosa. Cosa farebbero Arthur e Kenneth? Sono personaggi di un libro, James. Lo so, idiota. Sto pensando a voce alta. Sento qualcosa al piano di sopra. Ma lì non c'è niente. Nessuno di voi sapeva che era qui. Negativo. Che razza di posto è questo? Ehi, guardate qui. È la scrittura di Seth. Ma chi è? Nome in codice Blackbird? Catacombe di Parigi. Eccola. Ecco la vostra pista. È a Parigi. Beh, se diremo qualcosa non muoveranno un dito. Beh, immagino che adesso tutti a noi. Allora mi chiedo, che ore sono? Credo sia ora che Arthur e Kenneth risolvano questo pasticcio. Sì, cazzo. Voi siete strane. Beh, sono o non sono le figlie di Blazkowicz? C'è un flashwalker. Che diamo lo stai facendo? Andiamo a prendere un hamburger, mamma. Abbi. Non una sotto. Adesso! La linea è disturbata. Abbi! Lasciate che vi mostri una cosa. Dove le hai prese queste? Le ho fatte io. I generali nazisti ne hanno una, ne avrete bisogno. Porca puttana. Sei incredibile, Abbi. Ho finito uno dei progetti di Seth. Il suo ultimo desiderio. Sto lavorando anche a molte altre cose. Per questo Grace ti vuole nella divisione di ricerca avanzata. Magari ti manderà in riformatorio, mentre la derubavi era furiosa. Credi le importi di cosa pensa sua madre? Non mi importa di quello che pensano le persone. No, no ma prima di quanto pensano le persone a salvare. Sì. 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 Non mi bravo. sei blackbird e voi chi sareste ragazze